ah ecco c'è ancora la vostra più calda se quattro prove sii rapide e questo oggi anche perché hai visto io ho anche la nuova industria del best gamer e anche quest'oggi portiamo un sac a peve un sac a peve fatto un po così perché poverino si è guastato il 128 e l'abbiamo mandato in riparazione intanto intanto che cogliamo l'occasione visto che era settimana mai che non facciamo video ho detto vabbè facciamo così portiamo un sac a peve fuori dai ranghi ok che portiamo questo allora allora iniziamo col dire che facciamo subito il caricamento tag vai pronti siamo pronti allora come funziona questo gioco intanto che carica vi parlo un po del gioco il gioco in questione è chakman 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 è un è un gioco del funzionerà chi lo sa è un gioco del 83 ideato da un certo signor kevin bucker ok e riprende lontanamente e maziacs mi sembra giusto si maziacs maziacs che è un altro riprende lontanamente diciamo che è un è un finto clone è ok di un di un di un altro gioco come come potrei dire mettiamo le cuffie lontanamente dal micro riprende un po quello che era il tuo madre paravacca ed è un clone ok del famoso maziacs un altro gioco che andava di moda in quel periodo allora mettiamo le cuffie così almeno come funziona questo chakman dell'index gabber e anche un po dell'industrier questa riprende perché non accendendoci lo spectrum possiamo sbizzarrirci un po con le riprese dell'industrier ok chakman ok della edizione della custom cable international ltd sempre famosissimo dell'index gabber ricordiamoci l'industrier ok tu praticamente sei un altre cose da dire non ci sono no dai non ci sono andiamo noi praticamente noi siamo un disinnescatore di bombe vediamolo così disinnescazione dell'industrier che bello non contate sul casino che c'è qua e neanche sul casino che c'è qua è semplice comunque lì allora niente istruzioni del gioco cosa funziona tu devi disinnescare come personaggio chakman hai l'obiettivo di disinnescare la bellezza di otto e dico otto bombe per far questo dobbiamo scorrazzare andiamo al gioco e ve lo faccio vedere livello 1 2 3 l'uno è il difficilissimo 3 è più semplice ok noi lo teniamo così tranquillo con effetto tutte le istruzioni ma noi non ce ne frega un bel le conti g q a c b spazio scaps ok buona faccio vedere come funziona all'interno di questa strada vedete vedete dobbiamo stare attenti a quei piedoni schifosi che ci spapolano e noi con il nostro skateboard dobbiamo andare a cercare le otto bombe da disinnescare queste sono alcune delle icone che possiamo trovare lungo il gioco i patini ti danno la possibilità di scappare diciamo dai piedoni che ti schiacciano la pala per fare delle buche lo spazio per vedere bene o male dove sono le bombe da trovare chiaramente usando lo spazio scende l'energia e così è l'industria per fare le pape vedete vedete qua c'è una bomba per disinnescare la bomba per disinneschiamo la bomba bisogna avere il toolkit il toolkit è un è tutta una serie di strumenti atti apposta per la necessaria appunto dislocazione della bomba dell'index gabber dobbiamo andare a cercare per cercarla noi ci spostiamo un po' facciamo ancora spazio stiamo attenti sempre non c'è niente un bel negot continuiamo a cercare va bene andiamo avanti a cercare anche maziax è molto bello è molto bello maziax andiamo avanti cerchiamo 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 mamma mia in teoria con i pattini vedete loro scappano perché hanno paura dei pattini ce lo siamo addirittura mangiati ci siamo mangiati i piedi perfetto ok andiamo a cercare il toolkit perché qua l'energia si scarseggia scarseggiando l'energia dobbiamo cercare qualcosa da strafocare non c'è niente non c'è ma che vergogna di livello è chiaramente è una vita sola come al solito e il primo livello mi sa che ce lo siamo sparati giù nel gozzo niente proprio proprio il nulla andiamo andiamo eh qua è finita morti e finisce diciamo il gioco no ok così è finito il gioco e dovresti in teoria ricominciare da capo ci riproviamo per l'ennesima volta ricordiamoci sempre dell'index gamer allora abbiamo trovato subito la pala perfetto che la pala ci aiuta per fare le buche per fare le buche dobbiamo usare non so se dobbiamo usare il control non riesco mai a capire il control vedi ok con il con il control tu fai il bucone per evitare per fare in modo che i piedoni non ti schiacciano perché loro non riescono a saltare i buchi sono grandi ma non riescono a saltare le buche capito ok chiaramente neanche noi riusciamo a saltare le buche e quindi possiamo abbiamo la possibilità di coprirle queste buche abbiamo trovato da mangiare e il toolkit vedete c'è la tazzina da bere e da mangiare e giù in basso il toolkit da estrapolare mangiamo e ci ricreiamo energia e andiamo a prendere il toolkit che deve essere qua in zona eccolo qua toolkit con il toolkit possiamo disiniscare una e una sola bomba guarda guarda eh tac abbiamo tolto una e ci ho tolto il toolkit adesso per trovare le altre bombe dobbiamo avere un altro toolkit maledetto per tappare le buche tramite l'utilizzo sensato e smodato della carriola allora abbiamo questo oddio mamma buco siamo salvi ci stava per ammazzacchiare un piedone barbone ma possibile che noi oh abbiamo trovato delle buche e nient'altro bene andiamo avanti allora non ci preoccupiamo di niente e di nessuno di qua di qua mangiare mangiamo bene qua c'è una bomba da mangiare e una buca ottimo quindi c'è la bomba da mangiare e nient'altro adesso prima di andare di qua eh andiamo di qua e vediamo ci sono sempre allora vicino a casa mia no? c'è un campo esagerato dove spesso e volentieri buttano il ruto la cacca di animale per concimare per fare il pieno per fare quello che vuoi quindi qua da gennaio a dicembre praticamente ci sono sempre ste cazzo di mosche a rompere i coglioni una cosa vergognosa intanto abbiamo trovato una carriola due toolkit maledetti voi le vostre nonne vai giù allora toolkit qua tac ah ce l'abbiamo già la carriola per così possiamo chiudere i buchi un altro toolkit un'altra carriola ma di bombe neanche l'ombra non abbiamo trovato neanche una bomba ancora che vergognositevole una bomba non abbiamo abbiamo il toolkit tac due bene ottimo bravo andiamo a prendere l'altro toolkit che era qui poco poco anzi ora andiamo ancora un po' più in qua vediamo se magari troviamo qui niente andiamo in giù sono tante otto eh sono tante allora livello difficoltà due tre mi sembra se non dico una stupidata adesso questi qua li sfondiamo vai barbone ok prendiamo questo tappiamo questo bene perché abbiamo la carriolina qua niente però siamo già a 2000 siamo già a 6080 eh 6080 è già un bel andare insomma abbiamo i pattini quindi possiamo starvi a puliti e tranquilli possiamo prendere un'altra carriolina e andiamo di qua a vedere tanto con i pattini non ci possono ammazzare almeno che non troviamo 14 piedoni che ci vogliono fare la vita qua c'è un buco lo possiamo chiudere va bene così chiuso e andiamo di qua vediamo se c'è qualcosa eh qua riempiamo proprio l'undersguard l'industrier ok niente qua c'è qualcosa allora c'è una bomba lì davanti bene poi c'è una pala due pale allora una bomba qui toolkit pala maledè ucciso niente andiamo avanti tre tre bombi abbiamo disiniscato che roba ci vorrebbe sappiate ottimo qui c'è una allora c'è una carriola lì in basso possiamo prenderla bello bello questo gioco qua a me piace veramente un bel po' anche perché è abbastanza intuitivo anche nelle istruzioni basta una volta che hai letto le istruzioni a schermo è abbastanza veloce non è complicatissimo certo è alla alla sua difficoltà giusta giusta ponderata abbastanza ponderevole abbiamo trovato di che mangiare di che oh vai vai giù vai giù vai giù di qua mangiamo questa non abbiamo i patini quindi dobbiamo stare molto attenti abbiamo trovato abbiamo trovato un macello di roba qui abbiamo trovato una bomba qua non avevamo il toolkit maledetti voi e le vostre nonne va bene è finito così basta eh ok il gioco è questo il succo dell'industrier è questo qua ascolta hai rotto i maroni allora andiamo a noi basta hai rotto i los marones game over sta dicendo game the game is over ascoltami a me basta eh che cos'è vai insomma allora bello Chuckman dell'Inspire il nostro amico Brock Lesnar il nostro amico Kevin Baker ha fatto un bel gioco anche se ha preso spunto da un altro che è anche quello è molto bello un casino incredibile ma è simpatico molto bello bravo come mi ha detto Chris Kevin Kevin Baker bravissimo io lascio sul adesso in link questo giro questo giro qua questo giro medesimo dell'Index Geber ascoltatemi bene perché non lo ripeto più in questo link qua in descrizione metterò il link anche se volete giocare online va bene non rompetemi i maroni che dopo non riuscite di qua e di là ok va bene per ora è tutto dal vostro amico Chuckman e allo 599 alla prossima si rampete ciao 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 ciao